coronavirus aumentano i contagi in calabria oggi più 19 in totale 1577 corruzione in atti giudiziari indagato il sindaco di renda marcello manna il giudice petrini avrebbe ricevuto denaro per l'assoluzione di un uomo dall'accusa di omicidio la mezza terme code per controllo anticovid all'aeroporto un solo varco e proteste dei viaggiatori truffavano gli anziani per impossessarsi di denaro da giocare poi al casino tre persone sono state arrestate a torino tra queste anche una 52 n di merito portosalvo